E' iniziata alla grande con la vittoria sugli Stati Uniti per 22 a 10 l'avventura della nazionale azzurra femminile alla Coppa del Mondo di Rugby di Oakland in Nuova Zelanda. Ha avuto la soddisfazione di debuttare giocando gli ultimi minuti di gara anche la valtrumpina Sara Seye che si ha raccontato le emozioni vissute a poche ore dell'esordio in Coppa del Mondo, esiacolamente rivolta al secondo match in programma domenica all'1.45 ora italiana contro il Canada. Ciao a tutti, ciao Sergio, grazie ancora per chiedermi come sta andando. Abbiamo vinto, abbiamo vinto contro l'America e vabbè sono felicissima. Ovviamente speravo sempre un po' più di tempo però comunque essere anche in panchina e sembra allenata e portare a casa una vittoria è la parte importante. Adesso si guarda la prossima partita contro il Canada che abbiamo già affrontato a luglio. Avevamo perso ma comunque non appena un test match, sappiamo dove sono i loro punti forti, sappiamo cosa andare a colpire e cercheremo di fare una prossima partita per portarci a casa, per portarcela a casa e niente, sono su stanca ovviamente qua è sera e tutto qui. Per oggi, per adesso le sensazioni sono positive, il morale è alto specialmente dopo oggi sappiamo di poterlo fare, non serve che ce ne diciamo, sappiamo giocare a rugby, sappiamo giocarci bene e quindi sono convinta che possiamo portare a casa un ottimo risultato da questo mondiale e la partita di oggi è stata un bel primo passo, quindi vedremo come va. Io intanto vi saluto e spero che vada tutto bene anche a voi. Baci grandi dalla nuova Zelanda. Grazie. Grazie. Grazie.